Premesso che per qualunque impresa fidelizzare il cliente è fondamentale, probabilmente nel settore bancario è meno cruciale che in altri settori, nel senso che in banca i tassi di abbandono della clientela sono abbastanza più bassi che in molti altri settori e quindi è utile io credo cercare di capire perché, se cioè i clienti delle banche rimangono fedeli o più fedeli che in altri settori perché sono soddisfatti di quello che ottengono o se sono fedeli perché ci sono una serie di barriere al cambiamento, una serie di switching costs che possono essere legati al fatto a un rischio percepito nel cambiare la banca. Che cosa succede se cambio banca? Vado dalla padella nella brace o possono esserci dei vincoli legati al fatto che il cliente è conosciuto in banca, conosce il direttore e quindi ha un legame personale o possono esserci degli switching costs legati anche alla difficoltà di raccogliere informazioni sulle alternative a disposizione, quindi le motivazioni rappresentate da vincoli possono essere molteplici oppure le motivazioni, come dicevo prima, potrebbero essere legate al fatto che il cliente si trova bene in quella banca, è soddisfatto e quindi in questo caso bisogna domandarsi quali sono le ragioni alla base di questa soddisfazione, detto in altri termini quali sono i driver che creano valore per questo cliente. Quando parliamo di creazione di valore, di driver di creazione di valore o in altri termini anche di driver di scelta del cliente, dobbiamo cercare di capire quali sono gli elementi che sono importanti per il cliente, in realtà nel settore bancario troviamo esempi anche molto diversi di modalità attraverso le quali le banche cercano di creare valore per i loro clienti, è sempre un mix di variabili in cui però alcune variabili in alcune situazioni pesano di più, in altri casi viene data più enfasi ad altri aspetti. Ci sono quelle che danno particolare importanza all'assortimento, quindi cercano di soddisfare e fidelizzare il cliente offrendogli una varietà sempre più ampia, sempre più ricca di prodotti e di servizi e quelle che puntano sulla creazione di una relazione interpersonale, di una customer intimacy, quelle che puntano sulla rapidità, l'efficienza, la velocità del servizio, quelle che danno enfasi agli aspetti tangibili, quindi alla ristrutturazione per esempio delle filiali, degli sportelli, quindi un insieme di elementi che chiaramente hanno una diversa importanza per diverse tipologie di clienti, quindi ancora una volta nel lavoro sul caso BNL occorre capire il cliente al quale ci si rivolge, per il cliente al quale ci si rivolge quali sono i driver più importanti tra quelli maggiormente utilizzati nel settore. Nel caso BNL si parla di millennials, però è importante io credo prendere in considerazione il fatto che questo universo è un universo estremamente ricco e variegato, parlare di un segmento di mercato che comprende persone da 18 a 35 anni vuol dire mettere insieme ragazzi che sono ancora all'università con persone che invece sono probabilmente già entrate nel mondo del lavoro, casomai hanno una famiglia, hanno un affitto da pagare o una casa da comprare, hanno un reddito, quindi lavorare sul caso BNL richiede innanzitutto approfondire la conoscenza di questo mondo dei millennials, scomporlo ulteriormente, identificare dei sottosegmenti sui quali concentrarsi, anche perché questo insieme di potenziali o attuali clienti per una banca è un insieme molto delicato perché le banche si preoccupano non solo di vendere i loro prodotti, ma anche di capire a chi li vendono e quindi è un segmento che per certi versi può avere anche una rischiosità più elevata di altri. La banca non può come un produttore di dentifricio preoccuparsi solo di trovare un cliente, ma deve trovare un cliente per esempio nel caso di un mutuo che sia in grado di rimborsare questo mutuo e quindi la selezione della clientela è un aspetto molto importante e che quando si parla di una clientela millennials, di una clientela giovane, di una clientela con un futuro ancora incerto, ovviamente è una scelta più complessa e più difficile.